Immaginiamo di avere una paginetta come questa, una pagina per gli appunti, una pagina di un progetto qualsiasi e dobbiamo andare a creare diverse versioni, la 4, la 3, il biglietto da visita. Io vado quindi a creare tre pagine invece che tre documenti in design diversi, vado a selezionare la mia pagina e vado quindi a dargli delle impostazioni all'interno del mio pannello pagina come puoi vedere quando vado a gestire, vado a modificare, quando vado a modificare le mie pagine chiaramente le cose cambiano un pochettino, puoi gestire tutto con altre funzioni di in design ma in questo caso voglio farti vedere una maniera un attimino più semplice per andare a gestire più documenti su in design senza andare a, come dire, gestire nuove funzioni, imparare ad usare nuove funzioni. Quindi semplicemente mi vado a definire degli altri ingombri e quindi me li vado a gestire. In questo caso non con troppa precisione, io vado un po' a piazzare gli oggetti un po' come capitano se voglio soltanto darti l'idea, non cerco di non essere preciso. In questo caso ho una 4, una 5 e una 3 e voglio, ho quindi tre documenti in design uno di seguito all'altro. posso fare qualcosina in più, ad esempio se non ho un documento pagina affiancata posso andare a disattivare lo slittamento delle pagine del documento per andare a sistemare tutti i miei documenti uno di fianco all'altro un po' come succede con Illustrator per avere una quadra della situazione. Chiudo il pannello pagina per farti vedere che con lo strumento pagina se io gli spunto la voce e gli oggetti si spostano con le pagine posso andare a creare una situazione molto simile a quella che abbiamo su Illustrator e con le tavole di Illustrator.